Rocca San Giovanni guarda il futuro della Pinettina. Lo scorso primo agosto questa suggestiva terrazza naturale sulla costa dei Trabocchi è stata danneggiata dalle fiamme. Il rogo è stato doloso e probabilmente, così ci spiegano, la mano incendiaria è stata quella della criminalità organizzata. Non è solo opera di incendiari locali, di piromene, di gente che vuole emulare. Spesso è così ma spesso c'è anche l'intervento della malavita che non vede di buon occhio lo sviluppo turistico di questa parte del territorio, dell'Abruzzo in particolare perché per esempio più a sud molte attività turistiche sono gestite dalla malavita purtroppo. Oggi si è svolto un consiglio comunale straordinario durante il quale l'amministrazione cittadina si è interfacciata con tecnici e associazioni. Ad oltre un mese e mezzo dall'incendio i segni del fuoco sono ancora evidenti e i danni si aggiungono ad un problema annoso di questa zona, quello del rischio idrogeologico. Dopo un'enorme frana nel 1915 che modificò profondamente la morfologia del territorio, Ferrovie dello Stato era intervenuta con opere per mitigare il rischio. Ad oggi però c'è bisogno di nuovi lavori e manutenzione per scongiurare che la pineta scivoli verso la via verde ma anche in un'ottica di rilancio della Val di Sangro e della costa tetina. La devastazione è palese, nonostante tutto siamo in un paesaggio veramente emozzafiato, nonostante l'incendio, nonostante sia stato tutto bruciato. Questa è una demostrazione che questo territorio ha bisogno di tutela perché noi siamo sulla pista ciclabile, sulla costa dei Trabocchi ma senza il patrimonio ambientale naturale non c'è sviluppo, non c'è possibilità di sviluppo. Tutti i giorni adesso ci preoccupa la chiusura possibile della Sevel nei prossimi anni con la telequalizzazione in Polonia e che noi dobbiamo essere pronti ad avere la nuova seve del futuro, cioè a sopperire a quello che è l'introduzione importante della Val di Sangro e dell'Abruzzo con un turismo di qualità. Lo possiamo fare appunto tutto l'anno della costa.